Coach Lugabevi della Stella Azzurra Roma comenta il primo successo della squadra in campionato in trasferta alla Lua. Sì, abbiamo fatto una partita solida. Direi che per quello che si è visto in campo ce la siamo meritata. Altre volte era successo la stessa cosa ma non avevamo vinto e quindi poi alla fine diciamo che oggi l'abbiamo approcciata bene. Abbiamo avuto un attimo di sbandamento al terzo quarto, abbiamo fatto un ottimo terzo quarto e inizio quarto soprattutto al di là dei punti segnati e del parziale ma in generale dei 95 punti. Quello che balza agli occhi sono gli 11 punti del terzo quarto quindi con un'attitudine difensiva importante, con comunicazione in campo, con energia. Queste sono le cose di cui una squadra ha bisogno per scavare i break importanti. Ovviamente poi abbiamo fatto canestri che ci hanno dato fiducia. Dopo è chiaro che quando una squadra perde 10 partite di fila e 5 nei minuti finali emerge un po' la paura, la paura di perdere. Però oggi siamo stati bravi perché l'abbiamo tenuta stretta con le unghie e con i denti e l'abbiamo portata a casa. Quindi è una vittoria che ci dà sicuramente morale, che ci dà sorriso perché lavorare con il sorriso è importante e è meglio ovviamente. Però il nostro campionato, i nostri obiettivi non cambiano. Ho detto dopo la partita di Cantù che il risultato non conta, dopo che abbiamo perso, il risultato non conta se non per il morale oggi che dopo che abbiamo vinto. Perché abbiamo subito una partita importante, giovedì giochiamo contro Torino che è una squadra che ovviamente è costruita per andare in alto. Abbiamo preso uno schiaffo importante alla prima partita di campionato e adesso c'è il ritorno. Siamo desiderosi di confrontarci con i migliori per vedere se questo gap è stato colmato e che tipo di continuità possiamo avere in questo campionato. Quindi portiamo a casa due punti e siamo già concentrati per la partita di giovedì prossimo.